La Ranieri International Soverato prepara la trasferta di Vicenza di domenica 28 novembre una partita importante e delicata alla luce anche delle quattro sconfitte consecutive subite dalla squadra con il vice coach Diego Boschini, allora presentiamo l'avversario di turno il Vicenza che praticamente è staccato in classifica di un solo punto dalla Soverato sarà una partita sicuramente difficile come si stanno rivelando tutte quelle di questo girone BDA2 Assolutamente, sarà una partita difficile ma come tutte le partite di Serie A2 sono tutte complicate sarà una partita equilibrata, sarà da battagliare, sarà da fare le cose fatte bene noi dobbiamo aumentare il nostro livello di gioco come stiamo facendo adesso nel allenamento sperando di portare a casa il risultato utile in tre punti di conseguenza Presentiamo l'avversario di turno che tra l'altro nel suo roster vanta anche due ex come Nardelli e Piacentini una squadra che è in ripresa dopo un avvio non particolarmente facile e quindi un avversario ostico Sì, sì, sicuramente è un avversario ostico, la classifica comunque parla da sé Sì, ritroviamo Piacentini che abbiamo nato l'anno scorso, Nardelli che abbiamo nato l'anno scorso ma quest'anno saranno tante le squadre dove troveremo delle ex degli anni passati dovremmo essere bravi ad arginarle, le conosciamo quindi abbiamo una sorta di vantaggio sotto questo punto di vista certo è che comunque bisogna entrare con un atteggiamento diverso dalle ultime quattro partite e cercare di sviluppare il nostro gioco al meglio delle nostre possibilità L'ultimo arrivo in ordine cronologico in casa Ranieri International Soverato è proprio di questa settimana la nuova regista Francesca Saveriano che ha sposato in corsa il progetto della Ranieri International subito ben addentrata negli allenamenti perché domenica c'è una partita importante a Vicenza Sì, sono arrivata come si dice in fretta e furia, è vero sono stata catapultata qui a Soverato ma l'accoglienza è stata ottima e ho subito iniziato a lavorare con le ragazze cosa che per me era importantissima proprio appunto per l'impegno che ci aspetta domenica a Vicenza e sono sicura che riusciremo a dare del nostro meglio Arrivi in una squadra molto giovane, in un roster molto giovane porti anche la tua esperienza sicuramente al servizio di questa squadra arrivando tra l'altro in un momento non facile perché dopo un buon avvio adesso ci sono state quattro sconfitte di fila che hanno un po' arrestato la corsa della squadra Sì, sicuramente, l'ho già detto in precedenza, arrivo in un momento difficile sono consapevole del fatto che la squadra non merita questa posizione in classifica però credo che possa essere per me uno stimolo in più a fare ancora meglio e per noi come squadra per provare a riscattarci e provare a ritrovare il ritmo di gioco un nuovo ritmo di gioco Prime sensazioni dopo i primi giorni di lavoro con squadra e staff tecnico? Beh, devo dire che la settimana è impostata veramente con grande intelligenza e lungimiranza e il lavoro giornaliero svolto in palestra è davvero magistrale mi sto trovando molto bene, stiamo muovendo ancora i primi passi con l'intesa insieme agli attaccanti però devo dire che secondo me stiamo già raccogliendo qualche piccolo frutto